Ad un anno dall'avvio del secondo mandato e dopo mesi di attesa, si è concretizzato a Teramo il rimpasso di giunta. Il sindaco Gian Guido d'Alberto ha salutato gli assessori Valdo di Bonaventura e Ilaria De Sanctis per far posto a Miriam Tulli, in quota Bella Teramo, gruppo del consigliere regionale Giovanni Cavallari e Graziella Cordone, in quota In Comune per Te, lista del presidente della provincia Camillo D'Angelo. Al posto di Cavallari, con deleghe pesanti, ovvero lavori pubblici ed edilizia pubblica, entra Marco Di Marcantonio del Partito Democratico. Di Bonaventura paga la candidatura da indipendente con azione alle ultime regionali all'opposizione in Consiglio Comunale a Teramo e sabato terrà una conferenza stampa. Ilaria De Sanctis saluta per effetto degli equilibri politici da mantenere. Si tratta di un macchiage di bassissimo profilo sotto il profilo politico, nel senso che al di là delle persone finisce uno stilicidio di oltre 100 giorni dalle dimissioni di Cavallari che dimostrano come il sindaco comunque ostaggio di piccoli giochi politici da parte di, io l'ho nominati, papà Sandro Mariani, zio di Dalmazio. Abbiamo anche il nonno che è il presidente della provincia, che si interessa in maniera molto forte, anche troppo forse, delle vicende del Comune. E quindi diciamo che è un'operazione che ho anche definito che è topardesca, cambiare tutto per non cambiare niente. Noi chiediamo le dimissioni perché, usando una parabola sportiva, quando una squadra gioca male, perde sempre, è ultima in classifica, normalmente l'allenatore e il manager o si dimettono o vengono sostituiti. Quindi l'unico che deve essere sostituito o si doveva dimettere era il sindaco, che invece ha cambiato i giocatori, perché è troppo facile cambiare i giocatori. La città di Teramo non merita questo e quindi davanti a tutte le problematiche, sono 50 giorni che non si fa un consiglio comunale ordinario. Ci hanno messo 100 giorni per cambiare un assessore e fare anche un rimpasto che non era dovuto. Io penso che il vaso è colmo. Il giudizio sul sindaco è un sindaco lento, un sindaco che poi, come sotto scacco si vede chiaramente, da alcuni protagonisti della politica teramana, soprattutto dei partiti e da alcune scelte. Quindi adesso gli auguro a tutte e tre, gli faccio in bocca al lupo per questa nuova avventura e mi auguro per il bene della città che le cose si facciano, perché abbiamo delle situazioni veramente imbarazzanti sotto tutti gli aspetti della ricostruzione al verde e altre opere importanti per la nostra città e dello sviluppo della nostra città.